Per Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, se Silvio Berlusconi deciderà di rinunciare alla corsa al Quirinale spetterà comunque al centrodestra mettere un nome sul tavolo. Non è d'accordo il vice segretario del PD, Giuseppe Provenzano, per cui l'intesa va trovata tra tutte le forze politiche dal momento che nessuna, da sola, può contare sulla maggioranza in Parlamento. Io ho parlato del piano B perché dall'altra parte c'è chi mette il veto su Silvio Berlusconi. C'è chi addirittura si rifiuta di sedersi a un tavolo e discutere finché c'è in campo il nome di Berlusconi. Quindi, premesso che il nostro candidato ad oggi è quello, un ragionamento su un altro nome è da fare per non lasciare la palla al PD o al centro-sinistra se poi nel caso in cui non dovesse essere lui, lo ha detto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, parlando con i giornalisti dell'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Un tema che vede da un lato il leader di Forza Italia che non ha ancora sciolto la riserva, dall'altro l'alleanza del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle che rifiuta di aprire i negoziati finché il centro-destra non ritirerà il nome di Berlusconi. In queste ore, dopo che anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno parlato della necessità di trovare un'alternativa, si parla molto della possibilità che Berlusconi rinunci alla corsa al colle, consapevole di non avere i numeri a suo favore. Ma dal centro-destra continuano ad affermare il contrario. Non è in arrivo una rinuncia. Aspettiamo che dal vertice del centro-destra Berlusconi esprima quelle che sono le sue intenzioni. Quindi se scioglie la riserva e si candida oppure no. Aspettiamo di sapere quello. Non ci aspettiamo che si ritiri. Salvini ovviamente ha dato dei tempi a Berlusconi per farci sapere cosa vuole fare. Vedremo cosa succederà, ma per ora la speranza è che sia lui ad andare avanti.